Fabrizio Gironi, uno dei più positivi per la G6 Blue Energy Piacenza, che non potrà difendere il titolo della Coppa Italia. Cosa è mancato stasera, a parte i sei match point sprecati? È mancato la lucidità nel finale. Avevamo spesso anche la palla per chiuderla, non solo in fase break, avevamo anche qualche contrattacco buono che ci eravamo costruiti, un palleggio che è rivenuto di qua, c'è mancata la lucidità, siamo stati bravi a recuperarla perché eravamo 14-12, siamo riusciti anche ad andare in vantaggio, lì dovevamo sfruttare il momento e chiuderla. È mancata proprio la lucidità nel finale. Cosa si salva da stasera nonostante tutto? La reazione l'abbiamo dimostrato tante volte in questo campionato, anche in qualche partita di Champions magari. Comunque siamo una squadra che non molla mai. Oggi l'abbiamo dimostrato, questa è la nostra identità e dobbiamo tenere poco che c'è di buono in questa partita. Pocca l'uomo.